Amici di AC Milan Inside, è il primo episodio dell'Angolo di Mosconi, una rubrica nella quale tratteremo ovviamente le ultime news di mercato e non legate al mondo rosso-nero e allora partiamo subito perché è imminente ormai la firma di Paolo Fonseca sulla panchina del Milan, possibile che firmi oggi se non domani, massimo nel weekend arriverà l'ufficialità dell'allenatore portoghese e dunque insomma i rossoneri mettono il primo tassello in vista della stagione 2024-2025, piccola nota parte, in tanti si domandano il perché della scelta di Fonseca con il nuovo mister del Milan la risposta che vi do io è legata intanto a dei costi, Fonseca ha uno stipendio piuttosto basso, percepirà tra i 2,5 e i 3 milioni di euro rispetto ai 4,5 che prendeva Stefano Pioli e soprattutto è un allenatore che si adatta benissimo alle richieste della società, quindi un gioco veloce, un gioco basato sui giovani e in grado di regalare spettacolo quindi come prima news sicuramente l'arrivo di Fonseca, capitolo Zirkzee siamo ormai ai dettagli, manca da definire il prezzo delle commissioni per quanto concerne la gente del ragazzo Kia la richiesta di 15 milioni presumibilmente si riuscirà a ridurre un po' quello che è il compenso voluto dal manager del giocatore Zirkzee firmerà un contratto di 5 anni per 4-5 milioni a stagione, 40 milioni il prezzo del cartellino della clausola che il Milan parerà al Bologna il terzo acquisto più importante di sempre della storia del Milan nel caso in cui vada a buon fine e sicuramente questo è un segnale forte dato dalla proprietà concludiamo con l'ultima news legata al terzino destro perché da quello che sappiamo sicuramente Emerson Royale e Cash sono i due giocatori più vicini all'obiettivo più vicini al Milan, tra i due probabilmente Fonseca spingerà più per avere Emerson Royale anche considerando il fatto che non è titolare al Tottenham mentre Cash lo è decisamente alla Stonevilla, occhio ovviamente poi alla questione europei perché potrebbero spuntare delle trattative interessanti per andare a puntellare la rosa, ricordiamo che il Milan dopo aver ufficializzato Zirkzee e eventualmente poi uno dei due terzini destri si dovrà concentrare su altri due ruoli fondamentali, il difensore centrale e ovviamente il mediano di rottura che tanto aspettiamo a Milano è davvero tutto per questo primo episodio, se la rubrica vi piace lasciate un like, condividetela con i vostri amici per rimanere sempre aggiornati sulle news inerenti al Milan e mi raccomando seguite AC Milan Inside e ovviamente Matteo Mosconi off, vi aspetto!